Oggi vi faccio vedere come funziona la doccia del sole, già ve ne avevo parlato con una piccola recensione Questi sono tutti i cubotti che si mettono all'interno, tutti con oli essenziali naturali senza coloranti, senza addittivi chimici, senza nulla di tutto questo quindi una cosa naturale che fa bene alla nostra pelle e ai nostri capelli Questi li mettiamo nell'apposito contenitore che va nella doccia e al momento che apriamo l'acqua, questo con la forza dell'acqua inizia a girare si sciogliono i cubetti e noi facciamo questa doccia meravigliosa come in una spa Adesso vi faccio vedere, questo è l'aggeggino, diciamo, facilissimo da montare lo praticamente, vedete, è sul supporto della doccia che loro mandano in dotazione Mettiamo così, chiudiamo, ok? Una volta chiuso riposizioniamo la doccia Scusate, sono un po' in granatella Ok? La doccia, è al momento di aprire Questi inizieranno a girare perché si riempiranno di acqua con la forza dell'acqua, noi ci faremo una doccia super profumata e energizzante, ok? Un bacione grande, andate sul loro sito La doccia del sole, ciao!